Trasforma un'esperienza individuale in una storia collettiva, stimola a cambiare direzione, a fare scelte che portino ad una svolta, ci fa rendere conto di quanto sia facile mettersi in connessione con l'altro, fosse anche nell'angolo più remoto della Terra e anche senza le moderne tecnologie. Inizia così la ventitresima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria con Perhaps Old Dragon, un lavoro complesso e ben strutturato della compagnia berliga Berlin che ha realizzato 30 racconti, 29 vicende realmente accadute che sembrano false e una falsa che sembra vera e che possono intrecciarsi tra loro regalando a ciascuno dei suoi spettatori un'esperienza quasi esclusiva delle centinaia di migliaia di possibili combinazioni se ognuno come vuole la regia, ne deve seguire complessivamente cinque secondo l'ordine definito in una lettera trovata nell'incavo del tavolo in corrispondenza di ogni postazione di questa realizzazione linea che ricorda un'astronave. Eppure tutti entrati nella chiesa di Mater Grazie e disposti uno di spalle all'altro con il volto rivolto ad uno schermo in un'immagine tipica della quotidianità di quest'epoca, all'uscita sono portati a dialogare, a scambiarsi l'esperienza vissuta, a trovarne tratti comuni e differenze e a sperimentare la veridicità della teoria dei sei gradi di separazione che sottende tutta la drammaturgia di Perhaps Old Dragon. Una composizione complessa basata su rimandi che ogni storia ha con l'altra tanto che c'è spesso interazione da uno schermo all'altro tra gli attori e ciascuno spettatore darà poi un significato ulteriore alle cinque storie che gli sono state raccontate rendendo potenzialmente infinita questa video installazione. Non poteva iniziare meglio anche questa ventitresima edizione del Festival Castel dei Mondi che anche quest'anno ha resistito alle turbulenze organizzative. Il nulla lasciato dall'ex assessore Magliano è stato ancora una volta colmato dall'esperienza del direttore artistico Carbutti, del direttore di produzione Fisfola ed l'intera squadra formata in anni di festival che in pochi giorni hanno recuperato con il solo finanziamento del teatro pubblico pugliese il vuoto di un ente comunale che non sembra lavorare per la cultura ma usarla. E se questo spettacolo stimola a fare scelte che portino a una svolta dobbiamo augurarci che tra gli spettatori ci sia stato il prossimo assessore alla cultura del comune di Andria.